PwC Italia ha organizzato anche quest'anno in collaborazione con il mattino Top 500 Campania, l'appuntamento che fotografa lo stato di salute delle maggiori realtà imprenditoriali del territorio. Per il 2023 l'edizione Top 500 si è focalizzata su una visione prospettica degli andamenti economici e sulle prossime sfide ormai a oltre due anni dalla pandemia di Covid. Un viaggio nell'economia del territorio tra sostegno alle imprese e valorizzazione dei talenti. Un momento importante di valutazione della situazione legata alla regione Campania con la presentazione delle classifiche delle migliori 500 aziende operanti sul territorio regionale da parte degli analisti PwC. La Campania, come ormai sappiamo bene, è sempre più la regione leader di un mezzogiorno a più facci, dicono gli esperti analisti di PwC. Sentiamo il commento del sindaco Gaetano Manfredi che ha partecipato all'evento. Ai nostri microfoni poi anche Pierluigi Vitelli di PwC e Carlo Palmieri, vicepresidente pianoforte holding Carpisa Yamamai. È chiaro che è la grande area di sviluppo che è potenziale del paese, il sud Italia, perché è un'area che ha un grande potenziale ma alla fine non ancora espresso. Come diceva il direttore del mattino e il suo intervento, basta piangersi addosso ed anzi dimostrare di avere tutte le potenzialità per fare nuovi sviluppi e nuovi incrementi di fatturato. Dopo i due o tre anni molto delicati in termini di consumi e quindi la moto ovviamente ha avuto questo effetto negativo, c'è stata una ripresa e anche i dati che oggi presentiamo qui come comparto rendono positivamente questa crescita.